E' allarme coronavirus, la patologia che in Cina ha già ucciso oltre 200 persone su quasi 10.000 contagi. Il virus è giunto anche in Italia, due turisti cinesi a Roma sono risultati positivi e ora ci sono dei casi sospetti anche in Abruzzo. Qui a Pescara abbiamo una decina di persone in sorveglianza domiciliare cautelativa, sta andando tutto bene, nessun caso sospetto, nessun rischio per la popolazione. A Teramo, per ragioni diverse, i due pazienti sono stati ricoverati prudenzialmente, però anche loro stanno andando bene, tant'è che non è stato mandato nulla all'Istituto Superiore di Sanità ancora, perché il quadro clinico non ne giustifica la valutazione. All'Aquila, trattandosi di un paziente pediatrico, c'è stato davvero un'attenzione, uno zelo particolare, quindi i campioni sono stati avviati pure in una condizione di basso profilo di rischio epidemiologico. E comunque siamo in serena attesa delle risposte. Per le due persone ricoverate a Teramo nel frattempo è stato escluso il coronavirus, ma inizia a diffondersi la psicosi anche nella nostra regione. Ma c'è davvero da avere paura? E' che la nostra popolazione è veramente protetta in questo momento, lo dico con orgoglio, perché da una parte, a differenza di quello che tanti dicono con delle dietrologie su questa situazione, e io sono invece contento di vedere che c'è stata una collaborazione internazionale eccezionale. In 15 giorni abbiamo avuto la sequenza del nuovo virus in tutto il mondo, cosa che non è mai successo prima, anche per la SARS ci abbiamo messo molto più tempo. Quindi abbiamo una condizione di allerta, ripeto, non di allarme, che è stata innescata correttamente e che sta dando i suoi frutti. Ma cosa può fare un cittadino comune individualmente per tutelarsi? Questa è la domanda più importante, perché noi tutti abbiamo un ruolo da giocare in questo momento. Dobbiamo prevenire le infezioni respiratorie, cioè il modo migliore per ridurre il pabulum, ridurre il rischio che ci può portare una malattia respiratoria esotica e controllare al meglio le malattie respiratorie locali. Quindi, la prima cosa, lavarsi le mani, non ossessivamente ma frequentemente. Seconda cosa, se tossisco o starnutisco, i nostri nonni ce lo dicevano, non mettere la mano è scostumatezza. L'OMS ci ha detto la stessa cosa negli ultimi anni, la CAF etichetta e la buona gestione della tosse è fondamentale per ridurre le infezioni respiratorie. La terza cosa, non è troppo tardi per vaccinarsi. Quindi queste tre cose le possiamo fare tutte e le dobbiamo fare tutti. Il tasso di mortalità del virus si aggira intorno al 2%, ma intanto negozi e ristoranti cinesi sono i primi a subire questa situazione a causa del pregiudizio che spesso sfocia in xenofobia. Da quando è scoppiato il caso mediatico, nelle attività cinesi vi è penuria di clienti. Alcuni commercianti dicono di aver riscontrato addirittura l'80% in meno di utenti. Ma acquistare merce made in China o mangiare i pietanze cinesi non rappresenta nessun rischio per la salute.